Con sanzioni Russia Italia perde 3 miliardi di export Le esportazioni italiane in Russia sono state inferiori a 8 miliardi nel 2017, circa 3 miliardi in meno del 2013, l'anno precedente all'introduzione delle sanzioni. . Lo afferma la Coldiretti, parlando della possibile ripresa del dialogo con l'invito del presidente americano Donald Trump al suo omologo russo Vladimir Putin per un summit USA Russia alla Casa Bianca. L'export di alcuni prodotti agroalimentari in Russia è stato completamente azzerato. .